Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per un veicolo in avaria, segnalato tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico, sulla Fipilì. Per il cantiere è aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo, Fiorentino. Per lavori in direzione Mare, rallentamenti tra Santa Croce, Sull'Arno e Montopoli-Valdarno. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pluneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!